Il Galla sta appunto uscendo con tutta una serie di iniziative di bandi che prevedono dei finanziamenti e inizialmente adesso indirizzati alla formazione e alla promozione del territorio perché riteniamo che sia importante creare soprattutto prima una sensibilità e da lì partiranno tutta una serie di altre iniziative rivolte al pubblico e ai privati. Quanto è importante sviluppare il territorio attraverso questo tipo di bandi? È importantissimo perché abbiamo anche l'opportunità di andare a scegliere le tematiche che andremo a indirizzare sui nostri allevatori, i nostri agricoltori ma anche rivolte agli operatori turistici. Credo sia molto importante in base anche al raccolto delle idee che si fece qualche anno fa coinvolgendoli attraverso un processo democratico dal basso ma anche attraverso degli indirizzi che abbiamo voluto dare noi. Questo ci permetterà di riuscire a orientare anche uno sviluppo verso la sostenibilità e il turismo. Che tipo di bandi sono? Entrando proprio nello specifico. Questi primi bandi prevedono la formazione e l'informazione rivolta agli operatori agricoli e sono finanziati al 100%, quindi coinvolgendo anche le associazioni di categoria che permetteranno appunto di sviluppare dei percorsi anche su richiesta delle nostre aziende. E dall'altra, quelli rivolti agli operatori turistici, sono finanziati al 60% e permetteranno anche attraverso dei percorsi molto approfonditi con delle dimostrazioni di riuscire a trasmettere e soprattutto condividere delle buone prassi. La cosa importante è che si tratta di bandi europei soprattutto, quindi c'è stato un passaggio anche dall'Europa per renderli ancora maggiormente appetibili. Sì, assolutamente. È un processo che parte dalla comunità europea attraverso la regione Veneto e indirizzati in parte a questi nove GAL del Veneto che in sinergia stanno sviluppando tutta una serie di azioni in modo da riuscire a fare massa critica a livello regionale e riuscire quindi a costruire un linguaggio comune di sviluppo. Senta, questi GAL di cui voi siete un po' i coordinatori, questi nove GAL, quanto sono importanti per il radicamento proprio sul territorio e per aiutare il territorio a svilupparsi? Beh, sono importantissimi, soprattutto questi primi perché aiutano a creare una sensibilizzazione degli operatori del territorio e quindi magari a promuovere dei portatori di interesse a creare delle nuove azioni che permettano delle ricadute importanti. Il concetto di fondo è che se costruiamo dei linguaggi comuni questo ci permetterà comunque di fare massa critica e sistema.